Posso chiedere una cosa impersonale, invece il fatto di avere Ghigo come appoggio a una persona ex Publitalia, ex Forzista? Ma se qualcuno dice che lei è un ottimo giornalista, lei lo ritiene un'offesa? Se dicono che è un ottimo giornalista lei si offende? Dipende da chi? Se me lo dice Berlusconi ci penso? Ma lei non si considera un ottimo giornalista? E chiunque glielo dica perché lei deve valutare che forse non è vero?